Ronaldo contro Messi, gli Igligs al Nassr e Alilal Al-Stars PSG. Riyadh, Arabia Saudita, pioggia di gol ed emozioni a Riyadh, dove è andato in scena l'ennesimo capitolo della sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi che ha entusiasmato gli appassionati di calcio negli ultimi 15 anni. Il portoghese ha sfidato l'argentino campione del mondo da capitano della selezione composta da calciatori dell'Al-Nassr, suo nuovo club, ed è la Lilal. Battuta 5 a 4 a Riyadh, l'amichevole di lusso contro il Paris Saint Germain pubblico in delirio in delirio gli oltre 50.000 spettatori presenti. Che hanno potuto ammirare lo spettacolo offerto dai due fuoriclasse e dalle altre star in campo, per Cristiano Ronaldo una doppietta festeggiata con la sua tipica esultanza. Un solo gol ma successo di squadra per Messi che proprio come CR7 è stato sostituito ed è uscito dal campo tra gli applausi dopo un'ora di gioco. Virgola